L'incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel va e vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché in testa strani tarli perché ha paura del sesso o per la smania di successo e scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e tra l'immensità se è vero che ci sei e viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' a cambiarla prima che se ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con nevrosi e gelosia perché questa vita stende e chi ha steso dorme o muore oppure fa un amore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché ha studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai svezzati per donne che li ha rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro cambiare un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu ci sei e problemi non ne hai ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo